Parla con Chiara Giordano e si intrattiene con i tanti ospiti presenti. Posa per i fotografi in coppia con l'uomo a cui è legata dal 1999. Vittoria Belvedere è mondana alla premiere teatrale a Roma, sempre in coppia con il marito Vasco Valerio. Difficile che i due si separino. L'attrice è 42enne e il produttore sono legatissimi. Con loro alzistina anche la piccola Emma, 9 anni, amorevolmente tenuta per... ... ... ... ... ... ...